Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Riccardo e faccio parte dei migliori dei migliori Oggi faremo un giro in barca Guardate ragazzi, siamo al lago di Garda Nel comune di Garda E faremo un giro in barca Guardate che bello Che è il paesaggio È bellissimo Allora praticamente vi spiego Di qua c'è la Lombardia E di qua c'è il Veneto praticamente Bellissimo E poi stiamo dando del pane Come potete vedere ci sono delle anatre Guardate del pane No, popcorn Popcorn forse Di popcorn Guardate quanti ne mangiano Un po' corn Ah ragazzi, per questo video richiedo la massima attenzione E mi raccomando Dovete lasciare tantissimi like E iscrivervi al canale qui sotto Oddio, cos'è stato? Ah, e mi raccomando attivate la campanella E' bellissimo il paesaggio ragazzi E' veramente bellissimo Adesso siamo a guarda E con la nave andremo a Bardolino Andiamo a prendere la nave Eccola là Eccola là la nave Guarda Eccola là la nave ragazzi Sta arrivando Guardate la nave Sta arrivando Che ci sta venendo a prendere Così andremo al parcheggio Nella nostra auto A Bardolino Però Siamo venuti a piedi Fino a qui Abbiamo fatto tre chilometri e mezzo Siamo venuti a piedi Adesso abbiamo deciso di sfruttare la nave Che ci porterà direttamente al parcheggio Sul lago di Garda a Bardolino Comunque Nella sponda di Bardolino Guardate ragazzi Noi siamo qui E lei sta arrivando Eccola là Prendiamo la La prendiamo Si prende in quel ponte lì Guardate c'è un ponte E la prenderemo direttamente lì Ci vediamo dentro Ah Però ragazzi Prima di salire sulla nave Dobbiamo Prendere un souvenir Ovviamente Per ricordarci Del posto Dobbiamo Lasciamo il ricordo In questa maniera Prenderemo Uno di queste calamite Vieni qua Vieni che prendiamo Guardate quante ce ne sono Ce ne sono Tante Riccardo Tante Prendi i miei Oh il puzzle non è brutto Secondo me Ecco qua il nostro souvenir Guardate E' un puzzle E' un puzzle calamita Mentre Mentre Mio fratello si è preso questo E mio papà il caffè qua Ci siamo fermati in un bar Ok Però Tra poco il battello ci scappa Perché praticamente ragazzi Ci hanno detto Che Il battello Praticamente Praticamente La biglietteria del battello E' chiusa Apre All'1.35 Adesso ve lo dico subito ragazzi Sono le Aspettate a Vi faccio vedere Sono le 13.18 E' Fra poco apre Fra Qualche minuto Fra 17 minuti Apre la biglietteria E così possiamo entrare Finalmente nel nostro Battello Intanto che passano Sti 17 minuti Ci rilassiamo un po' In questo bar E poi Ci incamminiamo Verso il battello Quindi ci vediamo Quando arriviamo al battello Che tra l'altro Ragazzi Che buono Adesso vi mangerò Anche un bel gelato Guardate che Tanti gusti ci sono Ragazzi Siamo nel battello Ecco Nel battello Sentite C'è il motore Hanno acceso E adesso Ci porterà Al parcheggio Che Non è E' là Vediamo Che non c'è Ok ragazzi Avete capito Poi guardate Che bello C'è anche Ci sono anche i testini Da buttare Anche da mangiare Ci sono anche le scade E la porta Per uscire E qua abbiamo lo zaino Allora noi giochiamo E ci vediamo A Bardolino A Bardolino Ok ci vediamo Ci vediamo a Bardolino Ci vediamo a Bardolino Ragazzi Va bene Forse però Dobbiamo prendere Bus navetta Lo sappiamo Carichi ancora tu Bellissimo Stiamo partendo Ragazzi Stiamo partendo Che bello Wow Bello E noi siamo qua Ragazzi Vi faccio vedere Tutti gli avviatretti No Ragazzi Siamo qua Carico Perché deve mangiare insieme Ragazzi Ragazzi Stiamo uscendo Sì sì Oddio Ragazzi Guardate 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 L'acqua è bella C'è Un bruttissimo Tempo Ci stiamo Stiamo Quasi Scendendo Andiamo C'è un tempo Bruttissimo Andiamo Ragazzi C'è un vento Anche Corrente Di vento Andiamo 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 Ok Aspettiamo Siamo a Bartolino Ragazzi No Siamo a Cisone 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 Scusate Siamo a Cisone Oh Sta piovendo Piave Andiamo Sta piovendo Aspettiamo Siamo a Cisone E ci stiamo Aspettando Che ci stiamo Fermando Però ragazzi Non so se riuscite a capire Ma Sta piovendo Sta piovendo E ci stiamo Fermando Stiamo a Cisone E adesso Mi sa che Dovremmo Prendere Il bus Navetta Ci vediamo Dopo Ragazzi Stiamo scappando Stiamo scappando Stiamo scappando Stiamo scappando Eh Senti Ah Ah Tutta l'acqua Oh Però Sta diventando Smeraldo Bellissima Vabbè Andiamo avanti Che pioggia 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 Un scappato Quanta pioggia Quanta 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 Adesso c'è un pulmine Eccoci Guarda Il bus Non so Guarda Guarda Aspetta di arricchare Guarda Guarda Il bus Siamo 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 Qua Guarda Siamo seduti Siamo qua 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 Si Ok Eccoci qua, vediamo la macchina, abbiamo 500 metri, ci sentiremo fra bellissimi amici. Allora ragazzi stiamo facendo sosta purtroppo in un distributore, io qua non so come fare, il mio compasso non lo prende, sta andando a prendere la macchina, però vi faccio vedere. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e attivate la campanellina e commentate e condividete, mi raccomando, noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!